Credo che nelle ultime sei giornate di campionato, cioè dal Napoli in poi, dopo la sosta dal Napoli in poi, la squadra abbia controllato e dominato la partita di più di quello che ha fatto nelle partite precedenti, nel campionato precedente, ma abbiamo ottenuto solamente due vittorie e quattro pareggi. Doveva essere, secondo me, invertito il risultato. Dovevamo ottenere quattro vittorie e al massimo due pareggi per come abbiamo giocato, per come abbiamo controllato le partite, per quante volte abbiamo tirato in porte e per quante volte abbiamo subito il tiro in porte. Ma se non siamo riusciti a vincere, significa che ci è mancato qualcosa, soprattutto nell'area avversaria, che poi è la zona di campo più importante. Quindi è lì che dobbiamo... Io mi auguro che domani riusciremo a controllare e a dominare così bene la partita come abbiamo fatto in questo periodo. Giochiamo contro la squadra forte, molto forte, ma possiamo farlo. Poi dobbiamo essere sicuramente più concreti, più efficaci in zona gol, perché è quello che ci sta mancando. Giochiamo contro la squadra del secondo in classifica, che anche essa ha preso tanto slancio dall'uscita nelle coppe, ma è una squadra con grande qualità, con grande gioco, con corralità, con squadra forte. Quindi dovremmo mettere in campo un'ottima prestazione. So quello che faccio e so perché lo faccio. Poi so anche assumermi le responsabilità quando i risultati non vengono. Questo è nel modo più assoluto. I pareggi sono arrivati... Non c'è un Milan 1, non c'è un Milan 2. Ci sono giocatori che stimo tantissimo, delle quali ho tanta fiducia. I pareggi sono arrivati con diversi tipi di formazione. Non è mancata la prestazione. In tutte queste uniti della partita la squadra sta bene, la squadra gioca bene. E' mancato il risultato finale vincente, questo sì. Quindi dobbiamo fare sicuramente meglio nelle prossime partite, già a partire da domani. Conosco bene i miei giocatori, so che i giocatori stanno bene, so che i giocatori ci credono, so che i giocatori hanno le qualità necessarie per fare delle ottime partite. Chiaro che abbiamo lavorato su certe situazioni perché su 16 vittorie che abbiamo ottenuto quest'anno, 12 volte siamo passati in vantaggio. E anche le ultime due che abbiamo vinto, con Napoli e con Lecce, siamo passati in vantaggio. Abbiamo vinto con Lecce che è stata la partita dove abbiamo concluso meno in porto in queste ultime partite. Quindi è inevitabile che dobbiamo essere più precisi, più attenti, più determinati nelle soluzioni finali. Qualche volta l'ultimo passaggio, qualche volta il tiro in porta, qualche volta la pallina attiva. Sono tante le cose che possiamo fare meglio, questo assoluto, nel modo più assoluto, ma non la prestazione generale. Quindi per questo io sono molto fiducioso. Lo sono dei miei giocatori, giocano con convinzione, giocano con generosità, giocano con coraggio. E questo è quello che dobbiamo portare avanti. Grazie a tutti.